Il mese dicembrino è un mese cruciale per i campionati di eccellenza e di promozione. A tenere banco non sono soli 90 minuti delle partite, ma il calcio mercato. Giornata campale ad Ariano dopo il primo addio, quello dell'estremo difensore ex Avellino Rino Iuliano approdato alla forza e coraggio, il parco calciatori nelle prossime ore dovrebbe incontrarsi con Patrona De Rosa per delineare il futuro sportivo della squadra. Secondo indiscrezioni, il massimo dirigente ha tutta l'intenzione di rinforzare la Rosa. Mentre i senatori vogliono garanzie per la continuazione del progetto sportivo. Ciò che è sicuro è che la vista Ariano Accadia porterà a termine il campionato di eccellenza per salvare il titolo sportivo. La società ufitana intanto ha trasferito anche il giovanissimo centrocampista classe 2003 Iannella al Gesualdo. Sempre per quanto riguarda la capolista del campionato di promozione, allenata da Nicola Facchino, hanno salutato i Granata, Fulchino e Guerriero. Colpo del Real San Martino che ingaggia l'ex Cervinara e Serino Alessio Teti. L'attaccante classe 99 ha già raggiunto i suoi nuovi compagni. In arrivo anche il gambiano Samanè, classe 97, centrocampista offensivo. Il club caudino, allenato da Luca Parisio, è in attesa del transfert.